... Nubifragi in città, oltre 50 richieste di intervento ai vigili del fuoco. A Maliseti una tettoia si stacca e piomba su un'auto in transito. La tromba d'aria spazza via il tendone dell'oratorio Ottobiana, attimi di paura per bambini animatori. GKN di Campi, giovedì il tavolo nazionale, anche le categorie economiche condannano il comportamento dell'azienda. Via del Ferro i residenti lanciano l'allarme sicurezza e presentano un esposto in comune, alta velocità e strada troppo stretta. Presentato il nuovo allenatore del Prato, Luigi Paiuca, dobbiamo riportare i tifosi allo stadio. Buonasera e ben trovati, dieci minuti di forte vento e pioggia all'ora di pranzo. Decine di interventi dei vigili del fuoco per rami alberi caduti e oggetti pericolanti. A Malisetti una tettoia in lamiera e assi di acciaio si stacca dal casottino in un giardino e diventa un proiettile contro un'auto in transito. L'automobilista ai nostri microfoni, mi è andata bene, sono ancora vivo. Alberi e rami caduti, comignoli e gronde pericolanti, tenso strutture di velte. Sono state oltre 50 le richieste giunte ai vigili del fuoco a causa del fronte temporalesco che all'ora di pranzo, per appena dieci minuti, ma in maniera intensa, ha investito la città di Prato, in particolare la zona nord-occidentale. I vigili del fuoco sono intervenuti in varie situazioni per la messa in sicurezza, con squadre provenienti anche dai comandi di Pistoia e Lucca. Attive anche otto squadre della protezione civile. A Galceti e nella zona di Maliseti e Chiesa Nuova sono diversi gli alberi divelti dalle raffiche che hanno sfiorato i 50 km orari. Il forte vento ha provocato un incidente in via Kulishov, a un centinaio di metri dal palazzetto dello Sport di Maliseti, incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Qui, da un casottino in muratura, posto nei giardini pubblici, si è sollevata la copertura in lamiera con annessi assi metallici, chiodi e impianto di illuminazione. Una quindicina di metri di pesanti rottami, che sospinti dal vento, sono andati ad invadere la strada e come una vela impazzita hanno impattato contro un'auto in transito. Fortuna ha voluto che si trattasse di una macchina piuttosto robusta e che gli assi di acciaio agganciati alla lamiera si siano conficcati nel radiatore del veicolo e non 30 cm più in alto sul parabrezza. Scosso per l'accaduto, ma per fortuna incolume, l'automobilista. Improvvisamente, durante quei minuti di grande tempesta, di pioggia e vento, si è staccata una copertura da quel casottino lì di Masselli e mi è piombata addosso sulla macchina. Non me ne sono accorto minimamente, ho soltanto realizzato quando la struttura mi è piombata addosso. Mi è andata bene, sono ancora qui. Hanno detto anche Vigile e Fuoco se una delle lungherine d'acciaio alle quali era saldata la lamiera, la copertura, invece di conficcarsi nel radiatore che ha sfondato, fosse atterrata nel parabrezza, mi avrebbe ammazzato sul colpo. Paura anche alla parrocchia di Tobiana. Il temporale e il forte vento di questo pomeriggio hanno creato una tromba d'aria che ha spazzato via il tendone dell'oratorio. Sotto c'erano bambini animatori, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Sentiamo Giacomo Cocchi. Momenti di paura per i bambini e gli animatori dell'oratorio di Tobiana. Una tromba d'aria ha letteralmente spazzato via la tenso struttura utilizzata per fare le attività con i più piccoli durante il campo estivo della parrocchia di San Silvestro. È accaduto attorno alle ore 13.30 quando un forte temporale si è abbattuto sulla città. In quel momento una quindicina di bambini e alcuni animatori si stavano riparando dalla pioggia in attesa dell'arrivo dei genitori sotto al grande tendone allestito al campo sportivo vicino alla chiesa. Il vento ha iniziato a soffiare sempre più forte e in maniera improvvisa e inaspettata ha creato una tromba d'aria che ha divelto il tetto del tendone e piegato i pali di ferro della struttura. Come si può vedere dalle immagini che ci ha inviato uno dei membri della parrocchia, l'effetto è stato devastante. Per fortuna bambini animatori hanno avuto la prontezza di fuggire dal tendone prima che questo venisse divelto e si sono rifugiati nei vicini spogliatoi, utilizzati come deposito per i giochi e le attrezzature dell'oratorio. Nessuno si è fatto male, per loro solo un grande spavento. Per la parrocchia si tratta di un danno di oltre 5.000 euro. Diciamo che oggi c'è stato molto lavoro per i vigili del fuoco, principio di incendio stamani. In un palazzo di via Giovanni Giraldi, una traversa di via Strozi, attorno alle 13.30 alcuni cittadini hanno segnalato il divampare di fumo da una veranda al terzo piano del condominio. In quel momento nell'appartamento non c'era nessuno. Gli altri condomini sono scesi in strada, mentre i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autoscala, sono riusciti a spegnere il rugo che con ogni probabilità è scaturito dal malfunzionamento di un congelatore presente nella veranda. Le fiamme hanno intaccato anche la caldaia e le pareti del palazzo. Per fortuna non ci sono stati feriti. Cambiamo argomento, torniamo a parlare della GKN di Campi Bisenzio. Giovedì il tavolo al Mise. Sindacati al lavoro per salvaguardare i dipendenti, anche le categorie economiche, condannano il comportamento dell'azienda. Giovedì sarà un giorno importante per gli sviluppi della vicenda GKN, l'azienda di Campi Bisenzio, nella quale sono impiegati anche molti lavoratori pratesi. Venerdì l'azienda ha comunicato l'intenzione di chiudere il proprio stabilimento di Campi Bisenzio e ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 422 dipendenti. Tra due giorni a Roma si terrà il tavolo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico con tutte le parti interessate, il governo, le istituzioni locali e regionali, le organizzazioni sindacali. Ci aspettiamo di incontrare l'azienda e di ovviamente poter avere un confronto con le istituzioni per cercare di capire e scongiurare quanto l'azienda ha annunciato, quindi il licenziamento dei 422 lavoratori e la chiusura definitiva dello stabilimento. In quella sede esprimeremo all'azienda, esprimeremo alle istituzioni il nostro dissenso per cercare appunto di evitare la chiusura definitiva dello stabilimento e il licenziamento di tutti i lavoratori. L'obiettivo, ha spiegato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, resta quello di sospendere la procedura dei licenziamenti che ha immotivata anche per la Vice Ministra allo sviluppo economico Todd e l'obiettivo primario del tavolo è far recedere l'azienda dal proposito di chiudere lo stabilimento e aprire una trattativa per soluzioni che salvaguardino il perimetro occupazionale. La società proprietaria dello stabilimento di Campi Bisenzi è un fondo inglese alla cui condotta ha scatenato le reazioni di sindacati, istituzioni e partiti. Capiamo che un'azienda abbia necessità di una ristrutturazione anche radicale, purtroppo è una cosa che può accadere, soprattutto in questo momento così difficile. Però anche in questa fase due cose non devono venire mai a mancare, il rispetto per le persone e l'osservanza delle modalità corrette per portare avanti i processi di questo genere. In effetti colpisce in particolar modo che, a quanto sembra, non si sia voluto percorrere la strada degli ammortizzatori sociali. I fatti accaduti alla GKN di Campi Bisenzio lasciano molta perplessità anche a noi artigiani. Da sempre come Confartigianato rivendichiamo a tutti i livelli strategie di politica industriale che siano più adatte al mondo della piccola impresa, dei piccoli imprenditori, dove il velo valore aggiunto sono i dipendenti e non sono semplicemente un numero da licenziare attraverso un messaggio. Parliamo di digitalizzazione. Il commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Antonello Giacomelli, critico nei confronti della regione. Non fa abbastanza per valorizzare le reti 5G locali. Sentite. Spero di essere io ad avere informazioni solo parziali, ma non mi risulta che nei progetti e nei piani della regione toscana ci sia un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle reti locali 5G e al sostegno a servizi di distretto. È un Antonello Giacomelli critico nei confronti della regione quello che è intervenuto oggi pomeriggio al Toscana Digital Summit 2021, la manifestazione che la regione dedica alla presentazione delle iniziative in corso per lo sviluppo delle infrastrutture digitali. Il commissario dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha anche sottolineato come senza un piano digitale regionale che punti a finanziare i progetti dei distretti e ad agevolare la realizzazione di reti locali 5G, si rischia di vanificare gli sforzi fin qui compiuti e di indebolire le capacità di ripresa del tessuto produttivo toscano. Ad essere oggetto dell'appunto di Giacomelli e in particolare l'assessorato regionale allo sviluppo economico di Leonardo Marras, è necessario inserire tra i progetti finanziati dalla regione e i servizi 5G per la filiera e le reti locali 5G, non solo le reti nazionali, ribadisce il commissario Agicom. Solo così i distretti toscani, vedi quello tessile di Prato, ma anche quello conciario, quello del marmo, quello florovivaistico, possono avere un vero sviluppo digitale. E proprio per quanto riguarda Prato, sono due i progetti che il Comune sta portando avanti in parallelo, quello del centro di competenze 5G, finanziato dalla regione e dalla fondazione Ugo Bordoni, e la Casa delle Tecnologie Emergenti. Una scheda dedicata al trasferimento tecnologico delle imprese è inserita anche nel documento Next Generation Prato, che punta ad attrarre le risorse governative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma come spiega l'assessore all'innovazione del Comune di Prato, Benedetta Squittieri, la prima alleata deve essere la regione, visto che le risorse del PNRR vedranno in prima linea le regioni. Truffe ai danni degli anziani. Il 15 luglio inizia la campagna di prevenzione e contrasto ideata da Prefettura e Comune. 8 incontri nelle frazioni per spiegare ai cittadini come evitare i raggiri. 58 episodi nel 2020 e 40 finora nel 2021. Sono questi i numeri relativi alle denunce per truffa presentate a Prato, un fenomeno, quello dei raggiri, che ultimamente si sta diffondendo anche online. Le vittime solitamente sono le persone più vulnerabili, ovvero gli anziani, e proprio per tutelargli e spiegare come fare per evitare di essere truffati, Comune e Prefettura hanno ideato il progetto Occhio alla Truffa, finanziato con 47 mila euro dal governo. Si tratta di un calendario di 8 incontri che si daranno in spazi pubblici e parrocchie delle varie frazioni dal 15 luglio al 3 agosto. Incontri nei quali le forze dell'ordine spiegheranno ai cittadini quali sono le metodologie più diffuse e recenti di raggiri e modi per difendersi da malintenzionati. Vogliamo puntare sulla autodeterminazione, quindi su una presa di coscienza da parte dell'anziano, su come si manifestano i rischi, quindi dare gli strumenti per poterli individuare e riconoscere e soprattutto spingere il più possibile affinché vengano poi denunciati i casi di tentativo o di truffa reale nel momento in cui si verificano. Perché questo è molto importante, è molto importante denunciare, chiamare le forze di polizia sempre. Nel solo comune di Prato sono quasi 43 mila le persone over 65. Primo appuntamento il 15 luglio alle 21 alla Casa del Popolo di Coiano, l'ultimo il 3 agosto alle 21 alla parrocchia di San Pietro Aiolo. Spiegare quelle che sono le tecniche più diffuse, perlomeno quelle finora conosciute, di truffa e cercare di far nascere un piccolo campanello d'allarme. Dopodiché distribuire i numeri di telefono delle forze dell'ordine della Polizia Municipale in modo che in qualsiasi momento, in qualsiasi modo nasca un dubbio, chiamare. Sanità Ant propone una due giorni di screening gratuiti in Piazza del Comune per la prevenzione dei tumori alla tiroide e del seno. Una due giorni di screening per la prevenzione dei tumori della tiroide e della mammella. Ant ha organizzato un presidio in Piazza del Comune con una struttura mobile per offrire alla cittadinanza l'opportunità di test gratuiti su prenotazione. 16 le ecografie per la diagnosi precoce dei noduli tiroidei eseguite oggi. È molto più frequente nella donna rispetto al maschio. L'esame, come dicevo prima, è un esame semplice, un esame veloce, un esame non invasivo, quindi in pochi minuti si riesce a riscontrare l'eventuale presenza appunto di un nodulo tiroideo nel collo del paziente. È una gioia tornare in Piazza a servizio delle persone per queste giornate di prevenzione e naturalmente aperte alla popolazione qui pratese. Chi volesse ci può contattare naturalmente ai nostri soliti numeri. Domani, sempre in Piazza del Comune, saranno eseguiti altri 16 esami per la prevenzione dei tumori mammari. Siamo qui in ricordo di mia figlia deceduta per un tumore al seno e l'associazione dove lavorava ha preferito, anche su mia richiesta, di devolvere il denaro raccolto in cose buone e non in fiori o che dopo due giorni si buttavano via. Quindi hanno contattato l'associazione Ant che ha aiutato gli ultimi due giorni di vita di mia figlia oltretutto e ha regalato un giorno l'autobus per le prevenzioni. Parlando di sanità non può mancare il bollettino quotidiano del contagio. Cinque casi di nuova positività al Covid nelle ultime 24 ore a Prato e provincia. Quanto emerge appunto dal report della Regione che in tutta la Toscana segnala 65 nuovi casi a fronte di 5169 tamponi molecolari e 1680 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registra un nuovo decesso, un uomo di 61 anni di grosseto, le persone ricoverate nei posti letto dedicate ai pazienti Covid in Toscana sono complessivamente 72, 8 in meno rispetto a ieri di cui 15 in terapia intensiva. Cambiamo decisamente argomento presentato il nuovo allenatore del Prato Luigi Pagliuca che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D staff tutto pratese con il preparatore dei portieri Alessandro Misefori e il preparatore atletico Francesco Chiatto. Ce ne parla Massimiliano Masi. Il nuovo Prato di Commini e Reggiani riparte da un allenatore pratese Luigi Pagliuca che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie D. Io sono già carico di mio, figuriamoci a casa mia, quindi non vedo l'ora di iniziare. C'è grande entusiasmo, tante persone mi hanno detto torniamo allo stadio, torniamo allo stadio e questo sicuramente deve essere la nostra spinta maggiore e quindi c'è un progetto come hai detto te ambizioso ma noi siamo sicuramente pronti. Staff tutto pratese con il preparatore dei portieri ex Fiorentina Alessandro Misefori e il preparatore atletico ex Aglianese Francesco Chiatto. È una categoria in cui la parte atletica è fondamentale e dovremo lavorare tanto, i ragazzi si dovranno abituare alla fatica perché poi durante la partita dobbiamo sempre andare a mille all'ora. Nei prossimi giorni il Prato annuncerà i primi nuovi arrivi. Gli ultimi giorni siamo arrivati quasi alla chiusura del cerchio con grande soddisfazione. Abbiamo portato, ci siamo aggiudicati dei talenti provenienti anche dal club di Serie A molto molto importanti con i quali abbiamo trovato diversi accordi economici come ad esempio prestiti con diritto sulla rivendita piuttosto che precontrattualizzazione eccetera 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 e l'apertura da parte dei club proprietari dei giocatori è stata totale. Quindi la soddisfazione c'è tutta e ritengo che siamo con la rosa oramai al completo per quanto riguarda gli under. Io ci provo un nome, un nome, lo possiamo fare. Beh, Sanat ce lo siamo già riaggiudicati che è una conferma direi molto 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 importante. Sarà un Prato giovane e pimpante che cercherà la scalata nel prossimo campionato di Serie D. Mi aspetto un Prato divertente. a me piacerebbe vedere una squadra divertente in campo. Il risultato poi non necessariamente espresso poi dal gioco divertente o dal gioco migliore a me ci sono anche le occasioni che capitano in una partita però a me farebbe piacere far divertire il pubblico e vedere un gioco un gioco veloce un gioco di pressing un gioco di rilancio un gioco fisico. Ci trasferiamo nelle frazioni e in particolare a Santa Maria Colonica dove i residenti di Via del Ferro hanno presentato un esposto in comune per chiedere la messa in sicurezza della strada e dell'area intorno al casone e lanciano l'allarme furti e abbandono di scarti tessili. Un esposto in comune per chiedere di mettere in sicurezza un tratto di circa 50 metri di Via del Ferro in corrispondenza del casone. A firmarlo sono state 11 famiglie di Santa Maria Colonica che da tempo sono stagio dell'alta velocità di furti in convivenza con l'abbandono di rifiuti e dell'incuria. Il problema principale raccontato dai residenti riguarda la mobilità. La sede stradale in corrispondenza del casone si restringe e con lei pure marciapiedi tra l'altro spesso utilizzati dalle biciclette. Così chi abita in questo tratto di Via del Ferro si ritrova con le auto che l'ammiscono quasi le abitazioni e col costante rischio di incidenti. Al comune gli è stato mandato già i rilievi che abbiamo fatto e si vede che la strada prima e dopo il tratto di fronte al casone del ferro Guarducci si restringe di un metro. Prima i marciapiedi sono ambolati due metri e qui al cassone abbiamo a ridosso del cassone un metro di marciapiede dall'altra parte si può dire che è inesistente. Quello che richiediamo è che la carreggiata sia tutta spostata in questo tratto di strada ad una cinquantina di metri e poi c'è da fare da prevedere le dosi per l'alentamento della velocità. Poi c'è il problema del parcheggio pubblico subito dopo il casone l'area non è illuminata e viene presa di mira da malviventi per furti sulle auto in sosta e da chi smaltisce legalmente i rifiuti su tutti gli scarti tessili. Noi qui parcheggiamo le auto e viviamo sempre nel terrore che ci vengono fatti danni rubate le batterie sono state rubate le ruote abbiamo chiesto più volte per un'illuminazione abbiamo chiesto di liberare cartelli stradali perché comunque non si vedono e qui dietro di me c'è un marciapiede che ormai è sotterrato da rovi canne. Infine c'è il capitolo del sottopasso ciclopedonale che dovrebbe collegare via del ferro con via Sabadel una infrastruttura completamente abbandonata e costantemente allagata sia d'estate che d'inverno. Questo sottopasso è stato fatto è stato realizzato ma diciamo è stato abbandonato io non ci ho sempre visto l'acqua d'inverno ha dei livelli quasi qui al pari del cemento per cui un metro sotto all'arcata sovrastante il sottopasso stesso ed estate come si è visto e come si può vedere ci sarà un metro un metro e mezzo d'acqua per cui la funzionalità mi sembra che a livello di sicurezza sia zero e apriamo la pagina di cultura ha debuttato ieri sera la cava di marmo verde di Figline il Monteferrato Festival ad aprire il cartellone lo spettacolo Il ritorno di Alcesti di Valentina Banci e Alberto Astorri vediamo un festival dedicato alla musica e al teatro è organizzato in uno dei luoghi del cuore dei Pratesi la cava di marmo verde di Figline dopo l'edizione zero dello scorso anno debutta il Monteferrato Festival un'iniziativa votata alle produzioni originali sia in campo teatrale che musicale coordinatrice artistica del progetto è l'attrice Valentina Banci che ieri sera nel suggestivo scenario della cava ha portato sul palcoscenico insieme ad Alberto Astorri lo spettacolo La cena infernale è il ritorno di Alcesti in replica anche questa sera e domani alle 21.30 Questa è stata è stato il debutto di questo lavoro che è una scrittura originale nel senso l'abbiamo scritto Alberto Astorri ed io ispirandosi all'Alcesti di Oripide e c'è solo una ultima bellissima poesia che la poetessa Patrizia Valduga ci ha concesso di usare nel lavoro Di fatto noi siamo partiti dalla fine di Alcesti riscrivendola perché appunto la fine della tragedia di Oripide finisce in modo un po' ambiguo perché Eracle gli riporta Alcesti dice ma non si capisce bene se è davvero Alcesti o un'altra donna quindi su questa ambiguità noi siamo ripartiti con il lavoro Admetto è convinto che questa sia la muta cioè sia un'altra donna che assomiglia ad Alcesti ma non è Alcesti e poi in realtà lei si rivela e metterà a fine la sua vendetta Il festival proseguirà fino al 19 luglio con performance musicali concerti musica dal vivo e l'immancabile bar lunare che sarà aperto tutte le sere Il progetto è sostenuto dal comune di Prato assessorato alla cultura per Prato Estate 2021 comune di Montemurlo e da una accordata di sponsor privati capeggiati da Coedil SRL Da sabato il museo dell'opera del Duomo riapre e anche nei fine settimana le aperture nel weekend andranno avanti fino a settembre il 17 e 24 luglio il direttore dei musei di Ocesani sarà guida d'eccezione Il museo dell'opera del Duomo di Prato aprirà le sue porte anche nel fine settimana a partire da sabato 17 e domenica 18 luglio ogni weekend fino a settembre sarà possibile visitare in orario pomeridiano il grande patrimonio storico-artistico della chiesa pratese Per sottolineare questa importante attesa riapertura che avviene dopo la serrata dovuta alla pandemia il direttore dei musei di Ocesani Claudio Cerretelli propone una visita guidata nella sala detta del Pulpito L'appuntamento in programma sabato 17 e 24 luglio si chiama Donatello e il direttore ed è pensato per far conoscere ai visitatori le splendide opere che il grande genio del rinascimento ha realizzato per Prato In questo momento non sono molti turisti che vengono a vedere il museo allora abbiamo pensato a qualcosa che potesse suscitare un po' di interesse e l'idea è stata quindi di puntare delle brevi visite di una quarantina di minuti condotte da me nella sala del Pulpito L'idea della visita nasce anche dal fatto che dal marzo 2022 fino al giugno 2023 tre di queste opere saranno assenti dal Museo dell'Opera del Duomo per essere esposte in un'importante mostra su Donatello a Firenze, Berlino e Londra stiamo parlando delle formelle e il capitello in bronzo del Pulpito Esterno della Cattedrale due opere dal grande valore artistico pensate da Donatello per le ostensioni della Sacra Cintola Mariana la preziosa reliquia costruita nella nostra cattedrale da oltre otto secoli questa danza di angeli di bambini che sono allegri sono festanti perché si mostra la Sacra Cintola e sotto il parapetto del Pulpito quasi a sorreggere questo Pulpito uno splendido capitello in bronzo che fu fuso da Michelozzo e Maso di Bartolomeo socio e collaboratore di Donatello sicuramente però sul disegno di Donatello un capitello ricco di spunti fantastici anche se si ispira al mondo classico è decisamente molto 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 originale oltre a queste due opere lascerà il museo anche la capsella di Maso di Bartolomeo che ha contenuto la Sacra Cintola dal 1446 al 1633 prima opera di orificeria totalmente rinascimentale nella storia dell'arte mondiale per partecipare alle visite di Donatello e il direttore è obbligatoria la prenotazione attraverso il sito del museo museodiocesanidiprato.it Per questa edizione del Tg è tutto vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma vi ricordiamo domani alle ore 17.30 in diretta dalla Chiesa di Santa Maria del Soccorso la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa il Tg torna sempre domani in diretta alle 13.45 grazie per averci seguito buona serata Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar Abbiamo scelto gli uomini giusti perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni Prato Pollo professionisti della sicurezza non guardi Noi della celateria Zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino vi aspettiamo in via Carlo Marzio 74 e in via Bologna 159 a Prato Salve una buona serata andiamo a vedere quello che ci attende domani nei prossimi giorni dal punto di vista meteorologico sulla nostra regione dopo il maltempo di oggi lo vediamo anche dalla previsione sinottica attesa per il domani la perturbazione il fronte perturbato associato a questa circolazione depressionaria transitata ieri sulla nostra regione tenderà a spostarsi sui Balcani pioggia attese anche sull'Europa continentale sulla Toscana tempo in graduale e lento un miglioramento andiamo a vedere quello che ci attende proprio per la mattinata di domani lo vedete ancora nubi che interesseranno in maniera più consistente e compatta le zone interne soprattutto a ridosso dei rilievi nord-occidentali dove ancora in mattinata saranno possibili delle deboli piogge meglio e migliori la situazione invece in Maremma dove il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso i venti lo vedete sono ancora sostenuti sud-occidentali i venti di Libeccio con mare ancora localmente agitato o comunque molto mosso in modo ondoso solo in graduale attenuazione nel corso della giornata temperature domattina abbastanza gradevoli per il periodo in calo i valori minimi tra i 15 e i 17 gradi nel pomeriggio cambia poco lo vedete attenuazione della nuvolosità anche sulle zone settentrionali qualche goccia di pioggia ancora potrà cadere solo sui rilievi delle apuane e della lunigiana i venti ancora sostenuti occidentali con i mari ancora molto mossi al nord dell'isola d'elba temperature anche nei valori massimi decisamente gradevoli per il periodo 28-30 gradi sono valori leggermente inferiori a quelli tipici della metà di luglio che è il momento solitamente più caldo dell'anno uno sguardo anche alla giornata di giovedì graduale un terreno di miglioramento ma ancora qualche nube lo vedete al mattino soprattutto sui rilievi nord-occidentali nubi che potranno dare anche qualche goccia di pioggia sulle apuane sulla garfagnana la lunigiana altrove una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso venti ancora sud-occidentali ma in attenuazione anche il moto ondoso sarà in graduale attenuazione temperature ancora abbastanza gradevoli al mattino stazionarie e quindi con valori tra i 15 17-18 gradi nel pomeriggio avremo lo sviluppo di qualche addensamento sulle zone interne soprattutto sui rilievi centrimediali sui settori appenninici basso il rischio di qualche rovescio temporalesco quella fenomeno comunque di breve durata prevalenza di sole sulla costa temperature che torneranno a salire di qualche grado ma ancora valori direi gradevoli per il periodo 30-32 gradi le massime sulle pianure interne con questo è tutto ci risentiamo nel corso dei prossimi aggiornamenti noi della gelateria zucchero siamo ossessionati dalla qualità e ricerchiamo le migliori materie prime ovunque queste si trovino il nostro è un gelato naturale di fresca matricazione senza additivi e da sempre senza glutine come i nostri dolci e il nostro yogurt l'estate alle porte vi aspettiamo in via Carlo Marz 74 e in via Bologna 159 a Prato a Prato a Prato a Prato a Prato a Prato Grazie a tutti